Nell'epoca del mordi e fuggi anche un semplice social network può confermare la linea societaria. Dopo le parole del padron Angelo Antonio D'Agostino, l'avellino dal suo profilo di Instagram ha smesso, forse in maniera momentanea, di seguire tutti i calciatori in rosa. Una scelta che non è passata inosservata per i tifosi che hanno cominciato a interrogarsi sul futuro. L'ho detto, non con loro, perché sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Abbiamo fatto due campionati, l'anno scorso alcuni di loro sono stati molto meglio di quest'anno che hanno guadagnato una volta e mezza in più. Un secondo dato, ovviamente non meno importante, arriva anche dai singoli calciatori che continuano ad allenarsi sul sintetico del partenio Lombardi fino a fine mese. Nessun posto dopo la debaglia casalinga contro il Foggia. Non è chiaro se è una scelta dettata dalla società oppure una linea comune per tutti i calciatori. Al di là di ciò, i prossimi giorni saranno dunque decisivi per riprogrammare il futuro dell'avellino che dopo l'eliminazione dei play-off vuole ripartire per la prossima stagione con obiettivi ben precisi e senza voli, pindarici o altro. Bisogna guardare avanti e scrivere su una pagina nuova, veramente nuova, dicevo prima al direttore che dobbiamo pensare immediatamente di cambiare tutto.